e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi un video un po particolare perché appunto non siamo in non sono in moto e mi sto recando appunto adesso sono fermo in un autogrill e mi sto recanto appunto in un centro distribuzione amazon in un magazzino di amazon questo perché comunque avevo la curiosità di vedere un po come funziona appunto amazon visto che molte volte vi consiglio dei prodotti che appunto compro da amazon e volevo appunto vedere con i miei occhi come come lavorano appunto in un in un centro in un magazzino amazon spero che vi possa interessare non credo che comunque riuscirò a filmare qualcosa dentro però io chiederò al massimo vi farò vedere comunque il il magazzino quello che è dovrebbe essere comunque penso il più grande di italia che ha che stessa giovanni che comunque è il magazzino dove partono tutti i prodotti diciamo che poi arrivano al nord italia e niente a dopo che i ragazzi è iniziato a piovere siamo qua al all'ingresso del dell'entrata appunto dove entrano tutti i lavoratori adesso vedremo se riuscirò a entrare l'entrata di amazon e niente ragazzi come vi ho anticipato dentro giustamente non si può registrare niente però comunque visto che questa visita è aperta tutti vi lascerò qua il link appunto che vi porterà alla pagina dove si può prenotare appunto questa visita che per me comunque è stata molto interessante se comunque anche voi magari volete passare una giornata diversa volete comunque andare a vedere come funziona appunto questa azienda vi lascio appunto il link io ragazzi vi ringrazio di aver seguito anche questo video vi ricordo di iscrivervi al canale e ciao 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 ciao